Vediamo un po'. Oh mio Dio. Madonna c'ho paura. Quindi dobbiamo giudicare la canzone. E' certo. E' come a Sanremo a chiedere. Sembra Simone quando fa il Wendy. Ma guarda che bel green screen. Ma guarda si. Sta plettrando sul ponte. Sta plettrando sul ponte. Lo stadio. Fuori la voce. Inter. Inter. Ma che c***o. 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 Questo è lo stesso video. Te maccio capadonda. Però metti un tizio all'interno di un locale che si muove così. Quello là è il matto del posto. No zii. Inter. 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 Ma che c***o era. Tutto stonato. Ma dopo fori scala. Ma che era. Non ti giuro. Inter. 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 Ma gli giuro lema. E' scandaloso. Dio benedetto del cielo. Mi sto sentindo male. E' bellissimo. Eeeeeee. Eeeeeee. Questa persona è contraria al DD. L. Zamp. Mania Non male Tutto lo stadio È felicissimo Questa persona è contro D.D.L. Zan Stupenda Bellissima Bratananno Oddio Bratananno Mi è inquietante No no è bellissimo